Sulla stessa barca, ieri a Bologna, come in diverse città italiane, si è svolto un presidio di solidarietà con i migranti della Sea-Watch, la nave a largo di Lampedusa in attesa di un apporto in cui sbarcare. Lucia Volcan. Con questa iniziativa abbiamo espresso piena solidarietà all'iniziativa del forum Lampedusa Solidale che ha lanciato questa idea di dormire sul sagrato della chiesa, dell'unica parrocchia di Lampedusa. Bologna come Lampedusa e come numerose altre città italiane, in piazza maggiore si sono ritrovati esponenti di associazioni cattoliche, laiche, sindacati e semplici cittadini per esprimere solidarietà nei confronti dei 42 migranti a bordo della Sea-Watch 3 in attesa da giorni di un porto sicuro in cui sbarcare. Con i manifestanti anche il sindaco di Bologna, Virginio Merola, che ha attaccato duramente la politica dei porti chiusi del ministro dell'interno Matteo Salvini. Un presidio intitolato sulla stessa barca, una vicinanza espressa anche attraverso un simbolo. La coperta termica che è simbolo di questa solidarietà perché sono le coperte che danno ai migranti quando sbarcano.